Eccoci ai margini di questo bosco colinare, meraviglioso. E anche qui troviamo una cosa molto interessante, il coesistere dei due elementi, yin e yang, luce e buio, luna e sole. Qui troviamo due elementi che sono la quercia e il castagno, due elementi che la mitologia ci aiuta a capire. La quercia è l'albero di Giove, l'albero della potenza, l'albero di Odino, quindi è un albero della forza, dell'irruenza, anche della violenza. Vedete questa quercia, guardate qui intorno, la quercia vuole spazio, vuole invadere. E quindi dal punto di vista mitologico, appunto è l'albero di Giove della forza, della potenza del re degli dèi, nell'ambito della religione è stato un albero combattuto dal cristianesimo. I monaci medievali abbattevano tutte le querce, perché le querce erano il simbolo del paganesimo. I pagani adoravano le querce, nelle foreste della Germania c'era la grande quercia e tiravano via il vischio della quercia, che era quello che aveva succhiato l'essenza della forza della quercia. E quindi c'è stata questa grande distruzione di questa quercia. La quercia simboleggia l'aspetto maschile, simboleggia Giove, che è anche molto preso dai suoi furori sessuali. E quindi i germogli della quercia che noi troviamo in questo periodo servono per rivitalizzare, per dare forza, sono degli antisenescenza, sono dei rivitalizzanti sessuali. E poi c'è il castagno. Pensate al nome del castagno, la castanea. Quindi chi è Nea? Nea è una ninfa di Diana che, come tantissime altre ninfe dèi, era insidiata dall'arapatissimo Giove. E Giove quindi insegue la castanea, vuole possederla e lei perde la sua virtù e soffre per aver perso questa sua virtù. Allora Diana crea questa pianta, il castagno, la castanea, che non a caso ha un frutto irto di aculei per difendere simbolicamente la sua virtù. E quindi vedete c'è questo grande contrasto tra questa lotta, che vogliamo che troviamo sempre in natura, tra la forza invasiva della quercia e la resistenza del castagno, albero possente che dura tantissimo, che reagisce buttando fuori i polloni, proliferando come l'aspetto femminile. E che è un albero anche importantissimo in ambito fitoterapico, perché noi prendiamo le gemme di castagno, sono quelle che vanno a tonificare le vene, il sistema linfatico, quindi sono adattissime all'aspetto femminile. Noi sappiamo che tutte le donne hanno spesso questo ristagno venoso, questa tendenza alle trombosi, questa tendenza al ristagno linfatico nelle gambe e così via. Quindi abbiamo i due aspetti qui, al margine di questo meraviglioso bosco colinare. L'aspetto è la terapia per le donne, la castanea, i germogli di castagno, e l'aspetto terapeuto per l'uomo, per dare forza, la forza di giove, la forza sessuale, la forza anti-aging che è data dalla quercia. Quindi bellissimo. Troviamo in questo mondo, in questo mondo colinare, in questo bosco colinare, troviamo i primordi, i primordi incontaminati. Qui non abbiamo più quelli che danno la caccia alla mascolinità, almeno in questo ambito, e distruggono le querce. La natura ha ritrovato se stessa e c'è questo dinamismo meraviglioso tra l'aspetto maschile della quercia e l'aspetto femminile del castagno. Tutto, vedete, nell'ambito di una meravigliosa natura che troviamo in questo ambiente colinare adattissimo all'uomo. Adattissimo all'uomo per moltissime cose, non solo per il respiro, ma anche per dare energia e per dare salute con le sue piante. Arrivederci al prossimo video.